E allora buon pomeriggio a tutti dall'Ippodrovo e alla Capannella questa giornata che ricorda tanti personaggi di quel must di quel film, Febbre da Cavallo, di tanti anni fa. Inizia col premio Erpomata, confronto sul Miglio per due anni, 5 al via, HWSS Massimo Barbini, Alpago WF Roberto Andreghetti, Atena Griff Lucio Colletti, Ayrton Trebb Antonio Di Nardo, Angela Cuff, Alessandro Gocciadoro non corre, Aria Bag e la macchina che libera concorrenti. Si avvantaggiano in coppia Ayrton Trebb e Angela Cuff. Angela va a diritto su Ayrton Trebb, poi al Pago WF a precedere a HWSS ha sbagliato ed è ormai fuori corsa. Atena Griff, Angela Cuff passa a condurre con 200 in 13 e 6, la segue Ayrton Trebb, poi al Pago ancora Akab Wise AS. Angela è in vantaggio al termine della prima curva e al completamento dei primi 400 metri ricoperti in 29 scarso, 15 e 2 di seconda frazione. Ayrton la segue da vicina, poi al Pago e Akab Wise. Posizioni ben delineate quando si va al passaggio dei primi 600 metri, 600 iniziali, che Angela Cuff passa in 45 con terza frazione in 16 e 2. Penultima curva, Angela al comando, Ayrton Trebb di rincalzo, poi al Pago e Akab Wise. 1 e 2 scarso agli 800, 16 e 7 la quarta frazione, ecco che le acque si muovono, sposta al Pago, lo anticipa Ayrton che va su Angela Cuff, guadagna lungo la corda Akab Wise AS, se intanto il primo chilometro se ne va sul piede dell'1, 17 e 2. 15 e 4 l'ultimo paletto di Angela Cuff, che guida all'imbocco della curva conclusiva, avendo a ridosso sempre Ayrton Trebb, allargo anche al Pago, di dentro Akab Wise siamo a 400 metri dalla conclusione, lanciata la volata finale con Angela al comando, Ayrton che prova l'aggancio, 14 e 5 ancora per Angela Cuff, Ayrton a ridosso, al Pago che si prepara, siamo all'ingresso della retta di arrivo, ma deve anche un po' accontentarsi, Al Pago riprende in mano, Ayrton si lancia all'attacco di Angela Cuff, poi Al Pago, Angela alla corda, Ayrton che attacca, insiste, Ayrton Trebb, Ayrton Trebb che nel finale prende il sopravvento, Ayrton Trebb che va a vincere su Angela Cuff, poi al terzo al Pago, su Akab Wise a S, 2 minuti e 8 decimi, e io ho 17,2 il primo chilometro, quindi 43,6 per gli ultimi 600 metri, Ayrton Trebb all'attacco di Angela Cuff che prova la reazione, ma Ayrton Trebb, questo mi sa che è proprio lo schema perfetto per Ayrton Trebb, coperto e poi piazzare lo speed, da un parziale micidiale, davanti soffre un po' la retta di arrivo, questa è la sensazione, per un cavallo che ha corso poco e magari è una sensazione pure sbagliata, ma credo che questo sia proprio lo schema perfetto per Ayrton Trebb, poi gli è venuta bene ovviamente, secondo un corda, bravissimo Antonio Di Nardo a sfruttare tutto lo sfruttabile, quindi Ayrton Trebb, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo e il signor Mauro Prospero. Grazie a tutti.